Dopo le polemiche e la rivolta del Comitato Sagre, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento con alcune consistenti modifiche rispetto alla versione originale. Il taglio al numero massimo di giorni per Sagra rimane, anche se è stato alzato venendo incontro alle esigenze delle Sagre stesse. Abbiamo presentato io e il Consigliere Stella, Presidente della Commissione Sociale e Attività Produttive, perché le Sagre riguardano un po' entrambe le cose. Abbiamo presentato un emendamento diviso in varie parti, dove i punti salienti sono principalmente due. L'aumento delle giornate per il Sagre rispetto alla prima previsione da 5-8 giorni, frazionabili in due periodi, come richiesto dal Comitato Sagre, e l'aumento anche al 50% dello spazio disponibile della Sagra stessa per la somministrazione, venendo un po' incontro alle richieste del Comitato. Fermo restando che sulla tipicità non siamo noi a mettere tra virgolette dei paletti, ma è la legge stessa che prevede che le Sagre debbano attenersi a un menu che rispetti la tipicità del prodotto, chiaramente con una certa elasticità per quanto riguarda le esigenze, penso ai bambini, ad esempio, che magari una famiglia che va alla Sagra ha bisogno anche di un'alternativa. Però fermo restando che la tipicità della Sagra deve essere importante. Quindi, alla Sagra della Bistecca si serve la pizza o no? Allora, alla Sagra della Bistecca si serve la bistecca, sicuramente, e la pizza o altre cose, appunto, valuteremo, ci sarà una commissione che di volta in volta avrà dei criteri di valutazione, commissione che la Giunta prossimamente istituirà, e quindi per tutti gli altri alimenti, altre pietanze che sono, diciamo, di complemento, ci sarà comunque una certa tolleranza, però, come dicevo prima, la Sagra della Bistecca si mangia la bistecca e ciò che riguarda il contorno, una cosa, insomma, senza andare a fossilizzarsi poi sulle varie cose. Però ecco, chiaramente un minimo di elasticità ci sarà. Naturalmente noi avremmo preferito la prima versione perché comunque ritenevamo che potesse soddisfare anche le esigenze di coloro che le Sagre le organizzano e le organizzano a scopo promozionale del territorio, come prescrive la legge. Dopodiché è stata raggiunta questa mediazione, naturalmente rispettiamo, anche se, chiaramente, come ho detto prima, non condividiamo, dopodiché cerchiamo di guardare i lati positivi di questo regolamento e ce ne sono e su questi vorremmo poi approfondire. Avete detto vittoria storica perché bisogna riconoscere che Confesercenti è stata la prima fin dal 2010 a sollevare questo problema quando non ne parlava nessuno. Sì, Sagra Selvaggia l'abbiamo inventata noi con il semaforo che diceva con il verde cosa si dovesse fare e con il rosso quello che non si doveva fare. Dopodiché il tema purtroppo è stato sì al centro del dibattito per diversi anni ma non aveva ancora trovato una soluzione soddisfacente che ancora non c'è per quanto ci riguarda. Occorre che ci sia un'annunativa regionale, noi riteniamo, che debba valere per tutto il territorio della Toscana, se non d'Italia. Anche perché qualcuno del Comitato Sagri diceva va bene, Arezzo fanno così, però si esce dal comune in Valdichiana, ad esempio, come Cortona, proliferare di Sagra. Sì, esatto. Il nostro impegno tra l'altro è anche a Cortona così come nel resto della provincia. È naturale che l'obiettivo è quello che la regolamentazione sia adottata non solo dal comune di Arezzo ma da tutti i comuni della provincia. Naturalmente l'ideale sarebbe una regolamentazione regionale ma comunque in mancanza di quella sicuramente i vari comuni sono tenuti a tenere un regolamento. Nel frattempo comunque Arezzo ha fatto comunque un lavoro positivo per cui siamo soddisfatti, anche se appunto, come diceva il direttore, era preferibile sicuramente la prima versione. Però, insomma, delle limitazioni sono state messe in termini di numero di giorni, in termini di numero di sagre complessive, sulla limitazione del menu, che non sia il menu di un ristorante, e soprattutto anche sulla necessità di una maggior trasparenza dei bilanci. Quindi per noi anche la possibilità che viene data di un controllo di quelle che sono poi le risorse raccolte attraverso le sagre è un elemento importante perché poi il nostro, diciamo, il problema principale è quello di una concorrenza sleale che i pubblici esercizi, i ristoratori, insomma, della provincia hanno proprio perché si determinano dei volumi importanti di risorse. Quindi in questo senso è importante che i bilanci vengano comunque presentati e su quelli poi si potranno fare le dovute verifiche. E qua c'è il tema dell'applicazione, nel senso che è stato scritto il regolamento, adesso va fatto applicare. Chi lo farà applicare? Sì, chiaramente lo dovrà far applicare il Comune, lo dovrà far applicare comunque la USL per tutto quello che riguarda la parte igienico-sanitaria. E su questo credo sarà importante comunque continuare a controllare noi come associazione di categoria, ma spero che il Comune stesso abbia intenzione di farlo in maniera seria perché non basta poi fare il regolamento, ma appunto serve di applicarlo e di controllare seriamente quello che viene prodotto. E noi siamo tra l'altro appunto sempre disponibili ad essere, continuiamo ad essere disponibili interlocutori in questo senso, per cui speriamo che il Comune in questo, diciamo, possa mettere in campo tutte le forze necessarie per fare i controlli, per non eccedere nelle deroghe perché sono state previste. Questo è uno degli aspetti un po' dolenti, nel senso che anche sul numero dei giorni e sul numero di sagre complessive sono previste comunque delle possibilità di deroga e anche su queste vorremmo molta attenzione. Ecco, il tema è stato forse strumentalizzato anche politicamente perché qualcuno ha detto così si fanno morire le frazioni oppure queste sagre servono ad attività anche, diciamo, magari sportive. È stato usato soprattutto questo argomento per contrastare questo regolamento. Sì, non siamo d'accordo, nel senso che il problema all'ordine del giorno è di non far morire comunque i ristoratori, secondo noi, perché comunque avere un'intera stagione in cui si raddoppia le possibilità di somministrazione in maniera, secondo noi, non naturale, non regolare da tanti punti di vista, mette in serie a difficoltà le attività imprenditoriali che comunque tutto l'anno poi sono soggette a mille tasse, a mille oneri e spese. Quindi, secondo noi, il problema è questo. Le frazioni e tutto quello che grafita intorno alla sagra credo che possano comunque, soprattutto con il regolamento che è stato prodotto, sopravvivere benissimo. Penso che lo faranno e forse si può limitare invece quei casi in cui si accedeva, insomma. Direttore, sempre dai comitati che abbiamo sentito in questi giorni, da chi ha presentato queste sagre, hanno detto che il pubblico delle sagre non è il pubblico che va al ristorante, quindi non è vero che porta via i clienti. Ma le risorse nella tasca dei cittadini sono quelle, quindi quando si sceglie, si va al ristorante, poi o si va a una sagra o si spende per mangiare e poi non si spende la volta dopo. Io questo credo che non sia vero, purtroppo, perché le difficoltà dei cittadini e delle famiglie sono note. Torno su un argomento però, sulla questione si deve finanziare le iniziative, cioè non può essere questo che finanzia le iniziative, queste devono essere attività di promozione del territorio, di un alimento, non per finanziare, perché questo è sbagliato come concetto e credo che poi alla lunga porti alle distruzioni a cui va portata. Ecco, la battaglia va avanti, avete scritto anche no al sindaco di Cortona. Di Cortona, sì, è un impegno generale, naturalmente laddove vediamo scarsa disponibilità a intervenire sull'argomento, cerchiamo di convincere il sindaco, che è popolare, che non è così difficile poi intervenire. Lo ha fatto Arezzo, è un esempio, naturalmente noi confidiamo anche l'intelligenza di coloro che organizzano le sacre, eccedere, fare molto di più di quello che è normale, che è accettabile, poi porta anche loro in una posizione di difficoltà nei confronti dell'opinione pubblica, perché dobbiamo domandarci cosa succede, dove vanno a finire i soldi, credo che se lo domandino. E quindi è una regolamentazione, una cosa che è accettabile da tutti, fa bene a tutto, al tessuto comunque sociale in generale. Perché a proposito di risorse, i prezzi anche di queste sacre sono lievitati negli ultimi anni, non dico che si spende quasi come al ristorante, ma siamo vicini. Sì, no, si spende come al ristorante e il servizio, con tutto quello che noi possiamo dire, è normalmente meno preciso, meno accurato, richiede meno investimenti e quant'altro. Ma se lo scopo è finanziare qualcos'altro, si capisce perché avviene questo. Quindi andare al ristorante è un'attività imprenditoriale, ci vivono famiglie, lo fanno tutto l'anno, quindi credo che ci vuole rispetto per questa attività. Quindi non bisogna eccedere. E quando si consentiva cinque giorni, non si eccedeva. Farne otto può essere più problematico, addirittura dodici come era prima, ancora più. Quindi è questo, nessuno deve eccedere in quello che fa. Sono accettabili le sagre se rimangono contenute. Grazie. Grazie.